Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale in tube, io mi chiamo Vittorius Mark e oggi faremo la Spicy Noodle Challenge E cosa ci serve? Ci serve Noodles piccanti, infatti oggi andremo a mangiare ragazzi 280 grammi di Spicy Noodle, raga Secondo me quando sarà male, però facciamo questa sfida, oggi mangerò 1060 calorie, ora vado a cucinarli Adesso ragazzi mettiamo dentro il piccante, guardate qua, abbiamo due bag come questa, già ne ho messo una Secondo me ho fatto benissimo a scegliere questa challenge perché per idea del freddo sono tutto intasato Non riesco a respirare proprio, quindi sono detto dai facciamo una spicy challenge così che è da unire l'utile al dilettevole Ok, abbiamo messo un piccante Mettiamo il timer e si parte Tanta roba Oh madonna Devo continuamente muoverli per farli raffreddare Perché tra il piccante e il caldo Mi sto aprendo proprio Oh madonna Oh madonna Dai su che manca poco Oh madonna Oh madonna Reggina un fazzoletto Oh madonna Ancora poco raga L'unica cosa che posso fare è questo Finito 5 minuti e 47 Oh mio dio Ce l'abbiamo fatta raga Ragazzi ho le labbra che vanno a fuoco Sono andando a fuoco tutto ve lo giuro Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciatemi un bel like Vi saluta un saluto da Tiger Victorius 4 e 20 Eschere Ciao